Ed eccolo qui, è appena arrivato il penultimo testo che leggeremo in questa rassegna di testi sanremesi, il testo di Gian Maria Mostro, è il singolo che porterà al prossimo festival di Sanremo, è un altro dei sei esordienti scelti a Sanremo Giovani. La vocalità del giovane cantautore si rifà a quella del nuovo pop italiano, ma nel ritornello una cassa ritmata porta questo pezzo in territori più vicini all'elettronica. Ma che ti sembra un mostro? Guarda che sono a posto. È il ritornello di un pezzo dedicato non a un sentimento romantico, ma agli affetti familiari. Ora che sorella mia sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Ecco, quindi andiamo a leggere il testo di Mostro e lo reggo con voi per la prima volta. Ti ho baciato sulla fronte. Sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso. Per non correre nessun rischio ho occupato uno spazio più piccolo. Che mi sono perso? Ero solo distratto. Da me. Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso? Ero solo distratto. Da me. E se correre fuori mi lascia fermo dentro, allora spero di stancarmi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento. Ma che ti sembro un mostro? Guarda che sono a posto. Che mi sono perso? Ero solo distratto. Da me. Mo che ti sembro un mostro? L'ho pensato pure io un secondo. Che mi sono perso? Ero solo distratto. Stavo pensando a me. Ti ho lasciato sopra il letto un mio libro. Così sai che tornerò. Ma con tutti quanti i letti che ho visto? Con che faccia tornerò? Voglio entrare nei discorsi deciso. Ma mi sono perso tanto. E che dico? Se non sai mai di che si parla, tanto vale star zitto. E se le stelle fuori mi hanno tenuto sveglio, vuol dire che ho avuto più di un pensiero. Se per allontanarsi basta prendere spazio, allora diamogli un senso. Ma che ti sembro un mostro? Guarda che sono a posto. Che mi sono perso? Ero solo distratto. Da me. Mo che ti sembro un mostro? L'ho pensato pure io un secondo. Che mi sono perso? Ero solo distratto. Stavo pensando a me. Ma che ti sembro un mostro? Questo era il testo di mostro. L'ho scoperto insieme a voi. Aspetto i vostri commenti sotto questo video. Approfondimento di Radio Puginioner. Manca solo un altro testo. E poi termineremo la nostra maratona di oggi, 31 gennaio. Vi abbiamo voluto leggere tutti i testi dei singoli che parteciperanno al prossimo festival di Sanremo. Un Sanremo che seguiremo ogni giorno. Ve lo racconteremo così come tutte le novità discografiche, come facciamo ogni mese, i nuovi singoli, i nuovi album. Per cui vi invitiamo, certo, stavo per dire io e la mia redazione, a iscrivervi al canale Marco Puggini. Ad ascoltare anche, se volete, qualche canzone di Marco Puggini. Fatemi sapere cosa pensate, anche dei miei singoli. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Noi siamo quasi, sta per alveggiare. Ed è stato bello passare con voi questa nottata. In compagnia dei nuovi testi appena usciti, dei singoli che parteciperanno a Sanremo 2023. A presto, al prossimo appuntamento con Radio Puggini On Air.